quest'anno non è stato possibile realizzare la tradizionale proiezione della madonna di gambarare ammira venezia la madonna trainata dai cavalli ma abbiamo pregato intensamente per tutti e per il fine della pandemia ma la mia ammira grazie la mia ammira santa maria ammira prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amm 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 collanta pannull charity minded nel black con Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.